Ma quanto dura un bear market ragazzi? Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Oggi facciamo un po' una cosa speciale, una cosa unica, una cosa secondo me molto interessante soprattutto per il lungo periodo. Andiamo ad analizzare quelli che sono i cicli soprattutto di Nasdaq 100 e di Bitcoin a confronto, per metterli a confronto, da un punto di vista di lungo periodo ma andando a calcolarci quanto dura in media un bear market su entrambi questi strumenti finanziari, questi asset ragazzi. Qual è l'obiettivo di questa ricerca? Andare a vedere se a livello di tempo, quindi statistico, facendo un'analisi sempre temporale, analisi ciclica, l'attuale fase di bear market di Nasdaq 100, quindi mercati hold e di Bitcoin, può essere vicina alla sua conclusione. Andremo a confrontare quelli che sono i dati storici del passato, tutta quella che era la situazione macroeconomica del passato eccetera, perché funge ovviamente da filtro per ponderare la durata appunto di questi cicli e andremo a mettere tutto in questo calderone, poi facciamo la mangiare, come sempre faccio, mettiamo fuori quello che è la nostra idea. Ma prima di andare avanti ragazzi, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciatemi i pollicioni in su, che mi date una mano con il l'agoritmo YouTube. Poi volevo dire un'altra cosa, ieri si è tenuto il Summer Trading On Contest 2022, vinto da Leg92, l'utente che ha fatto la bellezza del 29, qualcosa, per cento di performance in un giorno. Sono molto contento, vi faccio i miei più ferbidi auguri, tra le altre cose perché ha battuto il mio record, che era quello di dicembre dove avevo fatto il 27%, il mio record personale, quindi molto belli questi tipi di contest. Sponsorizzato FTX che ha dato un premio di 1000 dollari, ragazzi vi lascio il link in descrizione di FTX, se non avete ancora l'exchange provatelo perché è una figata, avete anche il 10 dollaroni di regalo di bonus, ma volevo fare i complimenti insomma all'utente e soprattutto ragazzi ringraziare tutta la community che ha partecipato, 8 ore di live. Trovate la live su YouTube, ma la farò editare perché sono 8 ore, quindi troppe insomma, la farò editare in maniera tale che avremo un video proprio focalizzato perché lì sono anche spiegate tutte le tecniche, le strategie, le logiche che ho utilizzato per esempio per impostare la tipologia di operatività. Trading vero ragazzi, non parole barzellette fatto dal vivo in 8 ore di live con i risultati visibili da parte di tutti ed è la seconda volta che lo facciamo, non la prima, giusto per sottolineare alcune cose. Bene, andiamo a vedere quello che è invece la questione legata ai cicli e ho già dietro quelli che sono dei grafici che andremo a vedere, il BLX, quindi Liquid Index for Bitcoin e il Future di Nasdaq. Ragazzi, allora iniziamo da Nasdaq 100 perché è secondo me veramente molto rilevante questa struttura di Nasdaq 100. Timeframe weekly in questo caso che stiamo andando ad analizzare e stiamo storicamente tornando indietro nel tempo di 22 anni, al 2000 ragazzi, 1999, inizio anno 2000 quando ci fu la famosa crisi di internet. Allora, il calcolo in questione ragazzi è legato a tutte le strutture dei cicli annuali e dei cicli biannuali di Nasdaq fino al punto attuale perché la conclusione di quest'analisi ragazzi mi ha portato un po' a indicare una struttura temporale che attenzioneremo moltissimo nei prossimi mesi e che secondo me potrebbe un po' far trovare la famosa quadra alla situazione attuale anche dei mercati cripto. Allora, qui ci sono tutti i cicli annuali di Nasdaq e biannuali, quindi 672 giorni un biannuale, 700 giorni biannuali, qui siamo nel 2005 ragazzi, vedete come la struttura e la ripetitività ciclica sono abbastanza allineate. Qui invece vedete anche le strutture anomale perché qui nella fase del mercato orso del 2018, del 2008 scusate, ci fu un ciclo ribastista molto profondo solo di 357 giorni, quindi un annuale singolo, non due annuali come questi precedenti. Poi si va avanti nella famosa fase del mercato drogato, diciamo così, da parte della Federal Reserve, a proposito anche da questo punto di vista, probabilmente i prossimi mesi, i prossimi anni ragazzi, nei mercati classici del hold economy e nei mercati cripto secondo me anche, anche se sulle cripto un po' il dubbio ce l'ho sul prossimo eventuale bull run quando verrà, se ancora tira un po' come le precedenti. Per me ragazzi si sta sempre di più andando ad una logica di investimento di natura estremamente più difficile rispetto ai precedenti anni che sono state praticamente dei pasti gratis ragazzi. Questo è giusto per capire quando vi mostrano i dati di alcune investimenti per esempio nei mercati classici che bastava investire, è facile, quello è il rendimento medio. Ricordatevi che questo grafico che state vedendo è praticamente un grafico che non ha nessun tipo di oscillazione reale e che è un grafico totalmente pilotato e manipolato dalle banche centrali. Questa cosa qui ragazzi è difficile che si vada a ripetere nei prossimi vent'anni. È una cosa che secondo me è un po', cioè può succedere ragazzi, tutto può succedere, però anche che era italiano molto titubante da questo punto di vista ragazzi, quindi attenzione anche a far ricadere i dati passati soprattutto nel lungo periodo, farli ricadere in pseudo visioni del futuro che poi non sono molto realistiche. I precedenti per esempio dieci anni di Nasdaq ragazzi sono stati così, guardate un po', cioè quindi questo è quello che c'è stato precedentemente la fase di quantità di vising delle banche centrali, qui è la fase post crisi del 2008, quantità di vising, zero tassi di interessi, denaro gratuito. C'è una bella differenza e la differenza è che questa fase è completamente innaturale, drogatissima rispetto al mercato e che la probabilità che stiamo andando verso una fase non magari di questo tipo ma più simile e più frastagliata nei prossimi 10-15 anni è molto più realistica. Allora andiamo a vedere quella però che è la struttura dei cicli annuali fino ad arrivare a oggi per vedere anche i cicli annuali di Nasdaq se sono accettabili diciamo con l'attuale fase, vedete qui l'ultimo annuale chiuso nel marzo del 2020, questa parte qui, poi c'è stata tutta una fase iper drogata, ancora questa, dalle emissioni di liquidità delle banche centrali che ha prodotto in pratica due cicli annuali oppure sono tre di cui uno è iniziato poco fa. Adesso lo vediamo ragazzi, è proprio questa la questione. Allora qui sembrerebbe che dal marzo del 2020 ragazzi Nasdaq abbia optato per fare un grosso ciclo, ora io qui siamo a 800 giorni, potrebbe in effetti aver anche completato la sua struttura ciclica proprio su questo minimo dello scorso giugno, quindi questo minimo è il 13 giugno, completando quella che è una fase di un ciclo da 400 e 400 giorni, quindi un biennale fatto in maniera abbastanza lineare, diciamo solo 30 rialzo e poi questa gamba ribassista, quindi un ciclo di due anni molto pulito, diciamo molto rialzista. Sennò che ragazzi non abbiamo ancora conferma di questo dato, come sapete la struttura di conferma della chiusura ciclica si ha solo dopo che i trend sono iniziati, quindi qui abbiamo la possibilità di avere un'app del mercato che se secondo me va al di sopra di questo livello di 13.000, 13.000 e 3 per Nasdaq, indicherebbe con una buona probabilità che su questo minimo Nasdaq è iniziato un nuovo ciclo annuale. Se lo ha fatto Nasdaq potrebbe anche essere seguito poi da Bitcoin, di questa cosa ne parliamo comunque dopo. Una cosa del genere però ragazzi, non ci dà la tranquillità o comunque non ci dà una grande probabilità che il prossimo ciclo annuale ritorni totalmente in trend positivo, perché se dovesse essere fatta una cosa del genere dovremmo avere poi un nuovo ciclo che magari noi ipotizziamo fatto in questo modo, magari è con un annuale che si chiude poi agosto prossimo. Ragazzi allora qual è la questione di fondo? Che se andiamo ad analizzare invece anche le distanze, le durate dei bear market non tanto ci vanno, vengono a coincidere questo tipo di durate con l'attuale fase di bear market. Allora intanto per avere un'idea generale di quanto dura una fase di bear market sul mercato classico bisogna andare molto indietro nel tempo ragazzi e la fase attuale sembra molto più simile a questa fase qui, piuttosto che alle precedenti quelle proprio vicine ad esempio alla fase del 2020 oppure questa qui che era il 2018, perché ragazzi in realtà queste fasi sono stati degli shock, perché il 2020 è stato uno shock della pandemia, 2018 c'erano alcuni problemi a livello recessivo eccetera, questa è stata una fase di congestione molto lunga del mercato, quindi un bear market giocato in congestione con una leggera fase di bassista. Anche questa si potrebbe prendere come forma di durata però non da minimo a massimo ma nell'interezza proprio della congestione. Comunque andiamo a fare un po' di numeri. Allora ragazzi qui la più grande fase di bear market che Nasdaq ha avuto nella sua storia è durata 931 giorni, quindi sono due anni e mezzo di bear market ragazzi che è il più importante, dobbiamo anche confrontare il bear market in durata con l'intensità della discesa, meno 83 punti percentuali, quasi simile insomma al mercato cripto, due anni e mezzo di bear market. Non si è mai ripetuta la durata di questi tipi di mercati orso sul Nasdaq 100, perché il successivo, quello che a mio avviso rappresenta un po' di più l'attuale situazione in termini di fase di crisi dei mercati dovuti al problema inflattivo eccetera, quella che mi dà un po' di più l'aspetto di assomigliare l'attuale fase è proprio quella del 2007-2008, la crisi dei muti su Prime ragazzi. 497 giorni dal massimo di quel ciclo fino al minimo dal cui è partita poi la super fase rialzista iper drogata dal quantitative easing di cui abbiamo parlato prima. In questa fase abbiamo anche l'intensità di ribasso del bear market che coincide con il 52% livello che avevamo già preso in considerazione nella mia precedente analisi sul Nasdaq dove proprio si metteva in evidenza come questo tipo di ribasso forte un po' il punto di arrivo anche di questa crisi a meno appunto di situazioni estreme che poi non possono essere certamente valutate da grafici insomma riguardo guerre di un certo livello eccetera. Quest'altra fase in congestione durata 300 giorni, io non prendo da massimo al minimo perché come vi dicevo mi interessa in più la durata proprio della fase di mercato orso, anche qui c'è stata una fase da 300 giorni di congestione molto simile, le precedenti fasi invece queste più vicine di bear market sono durate veramente pochissimo ragazzi perché questa è durata un trimestre quindi 90-100 giorni e questa qui praticamente niente perché la velocità è stata imminente 35 giorni e quindi l'intensità del ribasso è stato troppo profondo in tempi molto veloci quindi meno 30% e anche simile diciamo a questo qui ragazzi questa era addirittura un po' di meno, meno 20% perciò la fase è stata chiusa qui. L'attuale fase del mercato Nasdaq mi ricorda molto moltissimo quella che nel 2008 sia come farmacia ciclica sia per la tipologia di crisi che la Fed stessa ha indicato essere una crisi difficile nelle sue previsioni, la Fed stessa ha detto che ha difficoltà a comprendere come andranno le cose nei prossimi anni proprio perché c'è un misto di interferenza da parte della guerra, dei prezzi che salgono in materie prime che vanno redistribuite a livello globale, forse una deglobalizzazione quella che stiamo avvivendo, lo sapremo probabilmente fra un paio d'anni e il fatto che i tassi di interesse alti con incidenti, con l'alta inflazione producono una recessione che sta per arrivare ma non ne sanno calcolare ancora l'entità, insomma tutto questa manprina che la Fed stessa ha, di cui la Fed stessa ha parlato vediamo oggi pomeriggio tra le altre cose stasera alle 20 e 30 che cosa diranno nel loro intervento, probabilmente il risultato che porterà è allungare i tempi, cioè avere una fase di bear market piuttosto lunga e prassaiata, molto molto simile a quella che abbiamo avuto proprio nella crisi del 2007-2008, la crisi subprime importantissima dei mercati. Allora andiamo a farci un calcolo, 497 giorni, ipotizziamo quindi 400 giorni di durata di questo bear market dei mercati classici e andiamo a vedere dove porta ragazzi, vedete che in questo momento il ribasso di Nasdaq seppur di intensità notevole è di circa 210 giorni la fase di bear market iniziata sul massimo del 15 novembre coincidente alla perfezione con quello di bitcoin ed è del 32% in linea con le precedenti, quindi allunghiamo questa fase, la facciamo corrispondere a quella del 2007-2008 ragazzi dovremmo arrivare almeno a 400 giorni e quindi alla fine dell'anno gennaio 2023 potrebbe essere ecco una durata corretta di questa fase, se non chiede se andiamo a fare un calcolo anche dell'ultima struttura ciclica mancante sembrerebbe proprio mancare un 200 giorni, cioè ragazzi un ciclo semestrale. Fatto questa manprina qui per dirvi una cosa, è possibile che sul minimo del 13 di giugno per quanto riguarda Nasdaq e quindi di conseguenza è probabile anche bitcoin, adesso andiamo a vedere bitcoin sia iniziato un ciclo semestrale che vada a concludere il bear market nei mercati old e criptovalute e questo ciclo non ha ancora espresso la sua fase ribassista, quindi se questa view va a corrispondere, cioè se questa fase di bear market del Nasdaq dovesse andare proprio così in termini di durata ragazzi, probabilmente andremo a sviluppare anche sul Nasdaq 100 una fase di ribasso che deve essere posizionata tra il 30% e il famoso 52% che più o meno è su questi livelli ragazzi, adesso facciamo una cosa e ci mettiamo la nostra stanghetta, quindi in sostanza ritorniamo al punto che i 10.000 punti, 9.000 punti, fatto un gioco di parole per Nasdaq, rappresentano un possibile punto di arrivo, cioè una fase creata in questo modo ragazzi. Questo tipo di grafico rappresenterebbe rappresenterebbe un bear market ineccepibile, coerente con i dati passati, coerente con la situazione attuale, coerente con i tempi di disbrigo delle pratiche burocratiche per snellire quello che è la questione guerra, inflazione eccetera, non tiene conto in nessun modo di eventi straordinari, quali possibili questioni belli che aumentano, problemi di altra natura che non sono attualmente conosciuti, quindi qui ragazzi ricordatevi che queste sono previsioni aleatorie ma sono punti di vista che possono essere sfruttati da trader e investitori perché se effettivamente Nasdaq sta facendo questo tipo di rialzo poi qui abbiamo un mass short selling e di protezione anche nel settore che potrebbe farci diciamo riprendere o proteggere eventuali hold che abbiamo eccetera, quindi questa cosa va tenuta in considerazione in termini di fase. Allora questo è quello che abbiamo da Nasdaq, sembrerebbe che attualmente una fase di bear market di durata 210 giorni sia leggermente troppo piccola, anche rispetto alle fasi precedenti, quelle di congestione ragazzi, anche se fa un doppio minimo, mancherebbero un centinaio di giorni almeno per dire ok un bear market degno di nota, vista l'attuale situazione forse 200 giorni, sono veramente un po' pochini, bear market finito sì o no? Fatemi sapere anche voi nei commenti cosa ne pensate sul mercato Nasdaq, abbiamo visto la correlazione con il mercato Bitcoin, se andiamo a vedere il BLX di Bitcoin facciamo lo stesso tipo di analisi e poi la confrontiamo ragazzi. Allora ecco il liquid index for Bitcoin, questo è il grafico che ha più dati storici di Bitcoin su TradingView e lo trovate con il ticker BLX ragazzi e abbiamo diverse fasi. Allora analizziamo quelle che sono le fasi dei bear market di Bitcoin che sono stati molto diversi e l'unni dagli altri. Allora qui abbiamo un bear market del 2011 che è veramente velocissimo perché dura 168 giorni ma che ha però un ribasso del 90%, quindi in 168 giorni il mercato in pratica fa tutto quello che deve fare in termini ribassisti. Nella crisi del bear market del 2015-2014 abbiamo, scusate 2013 che finisce nel 2015, abbiamo una fase di durata del bear market di 420 giorni ragazzi con un'intensità di ribasso di 80 punti percentuali, leggermente migliore rispetto alla precedente fase. Poi andiamo a quello che è invece la fase di bear market più conosciuta di Bitcoin che è quella del 2017 dove il bear market dura 364 giorni, quindi un annuale perfetto, quindi un anno perfetto, quindi un anno da calendario con un'intensità molto simile alla precedente perché Bitcoin va a perdere l'84%, quindi simile alle altre fasi di bear market. A questo punto ragazzi andiamo all'attuale fase di bear market a farci il nostro calcolo. Da novembre del 2021 andiamo ad oggi con 231 giorni di durata del bear market. Sembra anche in questo caso, come su Nasdaq, che la durata dell'attuale bear market di Bitcoin, molto simile praticamente a una fotocopia di Nasdaq, non in termini di intensità ma di struttura, di movimento, di forma, sia troppo corto ragazzi e che manchino ancora all'appello molte settimane. In particolar modo, se facciamo corrispondere questo bear market con il precedente, dovremmo andarcene verso ottobre-novembre, vedete, del 2022. Se invece lo accostiamo e lo sincronizziamo con quello di Nasdaq che abbiamo appena visto, dovrebbe durare 430 giorni, che è in linea ragazzi con i precedenti, 400 giorni circa, 360, 370, 420, questo è inutile ragazzi perché in pratica Bitcoin non aveva neanche gli exchange ancora. Questo qui, se lo mettiamo in linea, verso fine anno dovrebbe andare a chiudere tutta l'ambaradano. Quindi da questo tipo di dato abbiamo una importantissima informazione. Anche a livello di intensità, il 70% non sembra essere sufficiente rispetto ai presenti bear market. E se ancora abbiamo 200 giorni da spendere e da oscillare, allora l'idea che su questo mimo di giugno si sia andata a chiudere il bear market proprio dei mercati crypto e dei mercati old è un po' rarefatta. Allora, in classe di probabilità, io direi ragazzi che a braccio, quindi con un'analisi di probabilità qualitativa, non quantitativa, con dati alla mano, direi che la probabilità che su giugno sia chiuso tutto, la questione del bear market è di massimo il 20-25%, mentre il 60-70-65, 80 scusate, 75%, secondo me questi 200 giorni dovremmo ancora attendere. Magari facciamo una barra di congestione, magari un doppio minimo, però dovremmo ancora attendere. A questo punto si può andare a buttare un'ulteriore informazione di cui vi do la palla, ma poi ne parliamo settimana prossima, che è questa nel video di lunedì, cioè il fatto che sulla struttura ciclica di Bitcoin, sui cicli annuali, anche in questo caso, sembrerebbe che Bitcoin abbia strutturato tre cicli, e stia in pratica strutturando tre cicli di natura semestrale, barra semestrale corto, rispetto alla sua struttura, che vadano a fare questo tipo di movimento, cioè uno da 190 giorni che si è andato a chiudere proprio con il minimo di gennaio 2022, poi la struttura da 160 giorni chiusa il 27 di giugno, nella settimana 27 di giugno, è l'ultima che rimane, probabilmente la peggiore, quella più drammatica in termini di ribasso, che c'è forse non magari di intensità, ma che comunque dovrebbe essere interamente ribassista, che potrebbe arrivare fino a dicembre, vedete, gennaio del 2022. Io la metto un po' più corta, perché se sarà ribassista, se sarà in barra di congestione, si allunga, se sarà molto forte e ribasso, si accorcia. Questo, giusto, una chicca, un tips, ragazzi, per valutare queste tipologie di analisi. Io la metto intorno al 28 di novembre, giusto così, a titolo informativo. Quindi, uno, due, tre. The last. Questo è, teoricamente, quello che ne esce fuori da questo tipo di analisi, ragazzi. Dovremmo avere una ulteriore fase, quindi ribassista, probabilmente non sarà di enorme entità, perché se andiamo a livellarla con il meno 80 degli altri anni, meno 84, qui siamo a meno 71, 72, mancherebbero 10, 12 punti percentuali rispetto all'ultimo minimo. Secondo me, ci può stare, possiamo galleggiare, ma soprattutto, io direi, di fare una cosa. Valutiamo, in questo momento, proprio questa fase di mercato, questa qui, che è appena iniziata, in pratica dovrebbe aver chiuso il mensile da poco, con noi parliamo poi settimana prossima, e andiamo a valutare questa fase, ragazzi. Teoricamente, non dovrebbe avere nessuna possibilità di salire al di sopra di questi livelli, insomma, di queste due medie, soprattutto di questa, che è la media a 26 settimane, cioè quindi la media ciclica della semestrale, quindi quella che riguarda appunto 26 settimane, quindi metà anno sopra questo livello e non dovrebbe andare, ma è molto alto questo livello, è 35, quindi il rimbalzo, ragazzi, potrebbe anche continuare a fare una cosa del genere per poi chiudersi magari in questo modo. Dovesse avvenire una fotocopia di questo grafico, non vi nascondo che forse in quel caso, solo in quel caso, qualche byte di, lo metto anche io. Bene, allora, prendiamo questa analisi, la ristampiamo come analisi principale entro i prossimi sei mesi, come abbiamo fatto con il famoso massimo storico di Bitcoin a 67, 69 di quegli anni che poi è stato il massimo reale e vediamo se anche questa volta abbiamo idealmente raffigurato quella che è l'attuale situazione. Dovesse essere una cosa del genere, poi, insomma, ragazzi, abbiamo anche tanto opportunità per avere delle informazioni tanto, tanto chiare. Ci sarà questo bear market, questi altri 200 giorni, i 157 giorni di bear market. Cosa ne pensate voi, ragazzi? E, secondo voi, che livelli possiamo attenderci anche sui prezzi, non soltanto sui tempi? Come tempi ci siamo, così, questa è un'analisi che riporteremo nei prossimi giorni, l'ho un po' corretta rispetto alla confusione che c'era nei precedenti settimane di cui vi ho parlato più volte. Secondo me questa sta un po' meglio rispetto alle altre, proprio perché è legato a me, certo. Per oggi è tutto e noi ci rivediamo nel prossimo video. Ciao!